L'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Tuminelli, l'assessore alla polizia municipale Felice Dierna, il comandante dei vigili Diego Peruga e Caltambiente stanno effettuando un sopralluogo nel quartiere Provvidenza. Da premettere che c'è anche in corso un sopralluogo delle forze dell'ordine per installare le telecamere di videosorveglianza nel quartiere. Il sopralluogo riguarda la spazzatura, come potete notare alle nostre spalle una discarica data alle fiamme e poi questi muri. Sì, siamo qui all'interno del quartiere Provvidenza. Questi muri che comunque sono stati realizzati già da qualche anno servivano ovviamente per non fare passare le persone per un discorso di sicurezza pedonale dell'area, visto che nella zona ci sono diversi edifici pericolanti. Dall'altra parte però questi muri che sono stati eretti hanno consentito alla popolazione sicuramente con gesti assolutamente incivili di poter alimentare e creare queste discariche che vedete. I mezzi di Caltambiente stanno già rimuovendo la spazzatura? Sì, da questa mattina sono al lavoro dalle ore 6 del mattino. Caltambiente è qui nel quartiere Provvidenza per bonificare queste zone. Assessore Dierna, lei prima si è molto arrabbiato vedendo questi muri, ha detto nemmeno lo Zenn a Palermo è ridotto così. No, è una situazione alloginante, è una situazione indegna proprio per quello che stiamo vedendo e stiamo assistendo. Ho anche parlato in questo momento proprio con il comandante Peruga, come dicevo prima, che è presente proprio per fare questo sopralluogo. Abbiamo deciso di mettere delle telecamere proprio perché non riteniamo che sia un esempio da seguire, proprio perché i cittadini qua abitano. C'è un problema sicuramente e dobbiamo fare censire tutti i proprietari di chi sono queste case perché dobbiamo e vogliamo saperlo. Ha detto anche una frase forte prima, ricordiamo chi ha ghettizzato questo quartiere. Sì, questo problema che stiamo appunto e voi giustamente state riprendendo, sono anni e anni che questo quartiere è combinato in questa situazione. Se vogliamo fare polemiche e bisogna addossare la colpa, la responsabilità, l'amministrazione del ruolo, per carità ognuno è libero di poterlo fare. Ma sicuramente le mura noi non le abbiamo fatte alzare, non abbiamo proprio condiviso questo tipo di attività che è stata fatta, ma ripeto, anni e anni di incurie che hanno portato a questo Stato perché qua c'è una discarica. Ricordiamo che i muri sono stati fatti realizzare dall'amministrazione Campisi. Sì, sono stati fatti realizzare dall'amministrazione Campisi, sicuramente avranno avuto i loro buoni motivi, ci mancherebbe altro. Ma dobbiamo disporre, ora vediamo con l'assessore Tumilelli, di far abbattere queste mura perché proprio è una situazione incredibile e di cui noi ci dobbiamo vergognare. La Polizia Municipale è altresì presente qui questa mattina per visionare anche tutte le auto lasciate e abbandonate qui nel quartiere Providenza. Chiaro che non è sempre solo un problema di questo quartiere, di tante altre zone, ma abbiamo chiesto con forza e decisione alla Polizia Municipale di avviare altresì tutti questi controlli su queste auto che vengono indiscriminatamente depositate e abbandonate in tante zone della città, tra cui ovviamente il quartiere Providenza. Grazie. Grazie. Grazie.